salve ragazzi come va? spero tutto bene intanto chiedo ancora scusa per il caricamento dei video a rilento ma non avendo più la fibra causa trasloco sono costretto a caricarli uno alla volta, uno al giorno quindi perdonatemi ma comunque ora andiamo avanti magari per questo episodio con Uncharted, l'eredità perduta quindi vediamo un po' di proseguire, cioè cominciamo anche questa serie sperando di portarla a termine premetto che questa inizierà dopo gli eventi di Uncharted 4 non mi ricordo su attivati sottotietro ci sono, ok ci sono, ok ancora tu? è tuo il negozio? no è di mio papà ah quant'è? 800 rupie, grazie 800 rupie? ok, ok per te 5,50 incredibile allora allora tuo padre ti lascia spesso da sola? no è andato a combattere i ribelli l'ha obbligato l'esercito indiano? no è partito volontario davvero? beh se fosse stato per me non ti avrei lasciato più da sola ok queste sono 300 e... nuova offerta 400 rupie più Ganesh te lo sconsiglio è rotto vedi? non conosci la storia Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre sì, per difendere l'onore del padre sciva e restò con la zanna mozzata per la lotta mazza il pressing di sta bambina scusate eh vado a vedere un po' in giro scusate mazza il pressing e basta posso passare qua? però quante buone cose c'è niente di qua no salve scusi scusate buongiorno salve scusi a bambine togli e togli salve salve che cucina lei? chi sono funghi? che cacchio sono qua? ci sono soldati ovunque posso passare di qua? salve che bei vasi salve di qua non si può passare ok salve ah facciamo le foto? mazza sta bambina mazza sta bambina possiamo andare? e andiamo scusate scusi permesso mazza sta bambina scusate per la tosse allora è un bel primo tesoro Ganesh ok andiamo qui ma tanto è chiuso e noi ci andiamo lo stesso visto? tanto è chiuso ah 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 quante scarpe? dove vuoi? bambina e togliti e allora quante borse troppi soldati merda aspetta un po' tu non sei una turista vero? signora è tutto in sconto shh abbiamo da fare qui ho già quello che mi serve grazie mazza mazza che è impertinente sta bambina qui c'è niente non direi quindi andiamo di qua la salve scusi nessuno può attraversare il ponte è troppo pericoloso senti piccola ci siamo divertite ma adesso devi andartene ho un letto in più in negozio 300 rupie è il prezzo migliore di tutta l'India ok no grazie devo salire sul camion pessima idea i ribelli sono gente cattiva ascolta devo aiutare un amico ok senti qua quando torni ti offro una pizza ok ok bene merda diavolo aspetta oddio ho perso il mio papà dopo mangiando gelato non lo trovo più non posso tornare a casa senza di più almeno c'è stata utile tutto ok cosa succede salve la pelata in questo caso gli dico grazie ciao ciao uncharted l'eredità perduta the lost legacy oh che simpatica ok meglio di niente va bene raga come primo episodio ci fermiamo qui per adesso alla prossima ciao 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 ciao